questo rumore ha caricato ma c'è la farfalla che si muove ma ho sentito uno stataclunch niente va bene quindi tu mi dici che Fauci in realtà l'abbiamo ammazzato noi dovevamo per scontato c'è il trofeo e non l'abbiamo visto dovevamo per scontato che no perché è una roba del genere bella merda bella merda vabbè niente stiamo entrando nella casa rossa qua praticamente che è dato quella davanti notta parte che casa marron merda a questo punto all'attiviamo ok marianne sotto la scena spese la stessa a stai calma marianne 4.20 dello specchio c'è degli oggetti per terra vera ma io prima nell'entrata sentivo 10 esatto però magari devo andarci nell'altra stanza devo fare un giro andiamo qua però sta telecamera mi ha scassato la minchia raga sono farfalle poi foto di famiglia deve farfalle che per me è dall'altra parte prendiamola nello specchio è triste di vedere così guarda ho scontato col cazzo ho schiacciato niente vabbè avevo trovato una foto di famiglia ma ho schiacciato cazzo un'altra foto sono sempre di fotocattare la quale sull'acqua di ombra tutto vabbè ma che cazzo è questo cosa ho visto cosa vedono i miei occhi imitati questo gioco ma veramente sembra un pelino bruciato magari c'è una forma di aprirla magari poi? perché sei bloccato? allora sono tre foto vabbè forse c'è una maniera di aprirla però poi non lo fai mi sa che poi dobbiamo finirciare dall'altra parte vabbè almeno se abbiamo sconfitto quello sappiamo che dall'altra parte sì ma che merda anche perché gli veniva data un'importanza non era il mostro evocato da quello lì la bambina tutte cose tutte cose poi è venuto a contatto con l'acqua e la rete elettrica e bobbene sai cosa? ma che poi vabbè ce lo siamo elevati lì dal cavolo poi almeno fanno un po' più epico facci capire che ti chiamiamo scolto quello di che magari dovrei provare una ordine perché questo non sento certo? ah devi mettere le foto qua ah nella mensola qua devi mettere le foto che hai trovato ok aspettiamolo e ora? però mi hai spaccato il cazzo se prima non ti sembra giusto ora me lo devi dire se ti sembra giusto brutta testa di cazzo no? allora sarà così? ah ho capito bisogna andare in ordine cronologico magari esatto io stavo guardando le ombre sul muro vedevo delle forme sul muro no tu e io eh però no ma avete spaccato il cazzo allora no qua sono in tre non va bene metti quella dove sono in due esatto quella dove sono in tre quella dove sono in qua credo che sia la storia di famiglia di Recovich eh Recovich va bene qui c'erano degli appunti dentro una porta letti no non ho letto il cazzo sono qua che giro sento dei sussurri ma non trovo una minchia magari serviva questo per aprire la casa delle bambole no ci sono già andato no qua qua quaggiù non puoi scendere da coppata andare sulla taglia demoni non sopporto il modo in cui la guarda la odia per quello che è successo a te crede che sia colpa tua come se l'avesse fatto colpa sua come se l'avesse fatto di proposito è ancora troppo giovane ne serve tempo per capire ma a volte ho paura ho paura che potrebbe farle qualcosa continuo a ripetermi che non lo farebbe mai ma sono meglio di chiunque altro con ognuno ai propri demoni di chi parla e chi è questa persona qua sì esatto la odia per quello che è successo a te poi direi che non mi pare ci sia altro quindi mi sa che dobbiamo switchare dallo specchio no qua si può scendere sotto eh ma non ti fa scendere ah ma quello è uno specchio sembrava una porta va bene no no quello è lo specchio dobbiamo switchare d'altra parte ok ti stai levando dalla minchia ah ecco come si apra la casola dei bambolet squartandola non ce n'è problemi raga si si vai giù la tangela ma cos'è non ho capito una farfalla pazzesco raga è bestiale questa cosa qua 250 dice una maschera dice una maschera vabbè qua sopra spaccano la madonna spero non si sia sentito nella registrazione qua tra le campane di gesù cristo immobili però boh c'è una maschera da raccolta però non puoi andare giù di là mi sa che è ancora qui la sotto c'era c'era un insetto c'era un oggetto raga il discorso è quello comunque torniamo indietro e mettiamo sta farfalla praticamente perché andrà messa qua no 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 io l'ho rimessa lì nel legno andiamo dalla casa delle bambole ma questa cosa è pazzesca ragazzi cosa cosa vuondri no ho capito vabbè pazzesca questa cosa qua quindi io l'ho messa dove c'è un letto adesso provo a vedere cosa succede una meccanica devastante signori ma ti stai levando dalla minchia praticamente come se entrando nello specchio tu entrassi nella casa delle bambole non dovrei essere qui raga guai pesce pazzesco c'è un'altra roba da squartare eh però devi mettere un qualcosa lì a preso e non è la e non è il pesce no e non è neanche la farfalla ma la troveremo nella prossima pare che io ho trovato un'altra farfalla un'altra roba da squartare un'altra roba da squartare pazzesco ah perchè la farfalla va nel letto tutti tutti nessuno di te lo conosce nessuno di te lo capisci nessuno di te lo capisci l'hai visto il ricordo un'altra farfalla ah ok un'altra farfalla aspetta se ancora no ah ma tu sei andato un po' l'estante perché qua eh in quella in alto a sinistra ah io sono in alta destra adesso vado in quella in quella in alto a sinistra ah bobole ci scambiamo praticamente vabbè ma io faccio così faccio così vado in alto a sinistra anch'io così vado in alto a sinistra anch'io continua a dire che questa meccanica quando aveva fatta col trackpad però vero col feedback aptico sentire la merda squartata sotto il video ancora un po' raga un pesciolino bello un te col diavolo mi piace guardiamo questa vai giù con sto cazzo vabbè quante farfalle abbiamo tre un po' uno qua vabbè 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 tutto ragazzi mi state facendo incazzare no però mi fa fammi mettere ste farfalle della minchia perchè non me le guarda nemmeno negli oggetti non non posso mettere lo specchio nel basamento no aspetta ah no ah c'è un tempo ah qua c'hanno due masche due quante maschere ho però due 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 ne puoi avere massimo due poi vanno trovate c'è qualcosa che non andiamo nell'altra stanza ma ti levi se ci si incastra nel giro si incastra nel giro mi spostiamo un po' di nell'altra stanza è familiare raga sta rom qua non c'è una minchia pazzesca qua ah devo appendere le farfalle di cristo ah il pesce il pesce il pesce che mi mancava il pesce se lo metto Lily mi ha portato via la mamma perchè le ho portato via la mamma? però questo non era la mia ho fatto per la rocca però quindi quattro farfalle lì nel letto ce l'abbiamo però aspetta, qua c'è da squartare la madonna di nuova esatto, l'ultima farfalla qua c'è qualcos'altro non mi voglio perdere Eki perchè voglio capire tutta la storia beh ma io sto girando con l1 ma perchè c'è quell'oggetto nel basamento che se non mi ci fanno andare mi incazzano un attimino ma nanché ci posso andare se ne chiedo quell'ombia e afficare ste farfalle qua c'è un disegno che mi sembra molto uguale beh 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 penso stiamo calmi perché che mi sembra che mi sembra Lascia la bruciola, lascia la qui Terza maschera Cazzo non ho letto Cosa dice quando prendi la maschera? Neanch'io ho fatto X Porco Mi pare che abbia detto Eccola qui Poi dopo ho detto un'altra roba L'abbiamo saltata come due cretini Vabbè Carino però il discorso dello specchio Nella casa delle bambole Allora andiamo a spostarle Nella stanza di prima Però io Vengo io nelle scale della casa Continuo a sentire un cpcpcpc E non trovo un cazzo E adesso mi girano un attimo i coglioni Solo che di qua non mi fa mica andare da nessuna parte No no E quindi Quindi Fauci in realtà Noi ieri davamo per scontato Tormentava Mary Ann No Tormentava Lily Che è la stessa abusata E magari è proprio il motivo per cui è comparso E quindi Qua No Mi devo ficare La maschera Fammi mettere la maschera No è giusto No è giusto No 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 È la mia amica È la mia amica Tu farai mai fri Eh, goddammit Proviene da lei Allora, niente, li sto sentendo di sotto Ah, l'obiettivo sembra quasi intatto Potremmo trovo alcune scelte qui Ma questo è l'oggetto che vedevo Proviene da lei quella roba, sì, ok Le abbiamo fatto uscire noi Allora, ti amo, scemotto E perché me lo fai vedere? Non c'è una minchia? Vabbè, raga Negozio di orologi, cracone Qua sotto nel cementerato potrebbe succedere dove interesse tante Allora Trovate Ok Da parte bestiale l'orsacchiotto con le stesse bruciature di lei Ma detto questo Praticamente Mi stai dicendo che loro in realtà non sono morte nel fuoco No Perché una Eh, esatto Lei ha liberato il demone Una delle due sicuramente è stata salvata L'altra è bruciata a mezza E poi probabilmente mentre questa era in coma all'ospedale Il demone poi ha fatto schifezza con gli altri residenti È andato a pigliarsi praticamente tutte le persone che avevano un disagio Quindi l'infermiera, eccetera Qua c'è una siringa, attenzione, ragazzi Steroidi Lily Lily Listen You have to come with me now Daddy Where are you taking me? I'm sorry baby I'm so sorry Thomas What the hell did you do to her? Niente, praticamente L'hai ascoltata la siringa? Sì, sì, l'ho ascoltata, ascoltata Praticamente Si sarà reso conto che il mostro proveniva da lei e l'ha fatta fuori Anche perché c'è un... Degli appunti sotto uno sgabello lì a fianco È malata Ma non è una malattia fisica Lui aveva ragione Quella terribile notte si è risvegliato qualcosa Qualcosa dentro di lei è nato E la sta divanando dall'interno Si nutre della sua forza Il suo corpicino Si indebolisce Doviamo fare qualcosa Sì Praticamente lei dopo l'abuso È nata quella roba lì Esatto Qua Scarpetta 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 deve far capire Tell me about the fire Lily You were locked in, alone No We were not alone No? Who else was there? The voice I didn't invite it But it came Oh Lily Abbastanza palese C'è nel senso abbastanza chiaro Più che palese Però Altro documento Era fuori da qualche parte Di questo sono certo C'è solo il fatto che io sia seduto qui a scrivere E non a sbavare in un angolo E non a sbavare il un angolo Vabbè Non è la prova Devo solo trovarlo Ironico Ho sempre voluto Barrato Stare da solo Essere l'unico Ora inizio a pensare che non siano mai esistiti due di noi Forse siamo sempre stati due facce della stessa medaglia In ogni caso ho bisogno di lui Ho bisogno di me stesso Per salvarla Parla della Sua parte spirituale O del Sì Penso che parli della sua parte spirituale Mi faccio La stessa medaglia Oggi 27 febbraio è il suo compleanno Mi ricorda sempre il momento in cui la vidi per la prima volta Quella minuscola Meravigliosa creatura A quel tempo avrei fatto di tutto per essere suo padre E per far tacere quell'altra parte di me E ora sto disperatamente cercando di farla riemergere Per aiutarla Per salvarla Credo di aver finalmente trovato un modo E' rischioso E' la nostra unica possibilità Se fallisse No 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 Funzionerà Deve funzionare Raga Allora torno un attimo l'ingresso Se me lo fa fare Ovviamente non me lo fa fare Vabbè Vogliamo andare a vedere se erano spariti i sussurri Però Suppongo di sì Io sono davanti a una porta con un coma Ma è di sotto Ma non sono ancora passato Aspetta aspetta Non ho capito Sto a custodire l'orologio però bene Cazzo che dobbiamo fare perché No c'è un E' un regalo Eh sì Però Non c'è un eco Non c'è niente Vabbè raga però io A incastrarmi negli oggetti Mi sto spaccando i coglioni Ma mi sto proprio spaccando i coglioni Ok Sto ficcando nel muro Scopi segreti della casa di Tomas Vabbè raga Devo mettere Jesus Questa parte è praticamente Tra virgolette facoltativa Se tu chiedi dentro si è apposta Sì 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 Se vuoi saperlo lo vuoi sapere Se vuoi scoprire la storia raga Poi che codice a caso No Ah no vabbè L1 Eh però non vedo un cazzo Devo andare indietro L1 No 169 lo vedo che è diverso 169 esatto Forse anche la Forse anche il 3 169 Vabbè facciamo 1 Ah 1969 No 1996 Mi hai già spaccato il cazzo 1699 Vabbè Noi abbiamo un indizio Questa roba qua Mi devo incazzare Il documento dell'orologio Che diceva raga Hai ragione Aspetta aspetta Un po' a vedere Posso tornare indietro Allora sì Allora siamo calmi Perché l'anniversario Il tempo vola E dai Ste porte Gesù Cristo Data Qua c'è scritto Il costo 600 Data 1976 1976 Non sono i numerari Illuminati Esatto Vabbè Non ho capito 1976 Dai Tutto quello Ma stai fermo Fammi fare Eh no 76 Beppe Sei sicuro Sì sì Ho detto 76 Allora no Cosa non stiamo capendo No Cosa c'è scritto Magari Nella Spera Fermo Fermo Dieci anni Dieci anni prima 1976 Meno 10 1966 Vedi un po' E sono i numeri Illuminati Quindi deve essere Giusto per forza Esatto 1976 Sì Raga Bruce Wayne Esatto Bruce Wayne Ragazzi Abbiamo Wayne Fatta roba Milier Detective Fatti strada La storia Sento Sento Gesù Cristo Eh lo so Ah sì Ah sì Ah sì Corri Corri Deficiente Ah ma è tornato No Gli sono andato in faccia Sbagliato Dove ci è tenuti Ma Boh Non è Non è morto Oddio Sono morto Anch'io Perché raga Non è Perché io Mi sono girato Gli sono andato contro Come se fossi Ho sbagliato Con l'analogico Io mi sono dimenticato Il tasto per correre Sono il migliore Il migliore R2 Solo che La telecamera Di merda Vabbè Raga Comunque sono contento Che non ce lo siamo liquidato Così Perché se no Era davvero Una roba C'è troppo Non è lo stesso Eh sì Perché tu pensi Giustamente Il personaggio Pensa di averlo Ammazzato Comunque dove lui Ci ha tenuti Per tanto tempo Sì Giorno Correndo Muoviti Cazzo Mi siete Non tu Eh Vabbè Ho finito In me Se l'ha fatta Non puoi finire No 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 This doesn't end here It all ends in me Eh Capito No no no